E' un grande piacere che apri i lavori di questo convegno, mi sono Massimiliano Pierini, sono il direttore di Mostra Comune Foconco, mi tolto il benvenuto, faccio giustamente il nome di casa, ma non siamo lontani per la presenza dal dottor Pierini e dall'organizzazione di caldo, ma è una sorpresa per questa sera, sì perché lo ricordiamo tutti e vi invitiamo anche questa sera a partire dalle 18. Grazie Grazie a tutti.